amici di inter fan tv cuori forti nero azzurri bentornati bentornati all'appuntamento con interagire mercoledì pomeriggio oggi appuntamento speciale perché un post partita ieri sera si è giocata a Bologna Inter infatti non avete eh trovato le video paggelle perché eh facciamo tutto insieme oggi video paggelle eh commento di quella che è stata appunto la la partita di ieri sera Bologna Inter nel titolo trovate eh Alessandro dice non vedo si vede ciao Hermes dice ciao mi confermate che si vede peccato questo appuntapartito dice Jack eh perché Alessandro dice non vedo se mi confermate che eh tutto è tutto a posto credo di sì eh scrivete comunque Alessandro sei recuperato si vede dice Dejan perfetto ciao ciao Giovanni Foletti un caro saluto a tutti gli amici del gruppo Sangue Nero Azzurro ciao Mauro Villani a Alessandro eh lui non vede ma Alessandro è solo per te quindi prova a ricollegarti e il tuo dispositivo ciao Ettore anche dicevo ho titolato le paggelle eh che eh prima di interagire eh vado a a fare subito così restano anche all'inizio del video e poi quel monito di Spalletti perché quel monito di Spalletti dice Hermes il monito lo farei a Spalletti non viceversa no il monito secondo me è importante se andate a recuperare l'intervista di Spalletti sul canale YouTube dell'Inter l'intervista di Inter Channel l'ultima domanda di Nagaia Beccalossi eh si era parlato tanto di essere avere la faccia tosta no? E Spalletti dice eh sì eh è l'unico è l'unico modo eh perché bisogna andare addosso all'avversario non bisogna giocare comodi magari andare un po' dietro nella propria metà campo per avere più spazio e quindi non andare ad affrontare quella zona poi decisiva per vincere le partite sulla tre quarti avversario se parti troppo lontano non serve e quindi dice bisogna andare addosso all'avversario e poi dice chi ehm cioè se non si ha eh il coraggio eh Alessandro dice vedo solo la faccia di Michele certo eh eh quella devi vedere eh dice se non si ha il coraggio di eh di fare di fare questo eh non eh se non si ha il coraggio di fare questo bisogna fare altre scelte se uno non si prende eh se uno non si prende la responsabilità eh se uno non eh non si sbatte per la squadra e per il club dice Luciano Spalletti bisognerà eh cambiare cambiare scelta e questo secondo me è molto molto importante perché eh lui non si vuole cioè aveva difeso la squadra a Crotone eh saluto intanto a Michael perché dice eh a Crotone faceva caldo il Crotone era tutto chiuso trenta gradi il campo sassoso era difficile il rimbalzo del pallone il vento eccetera eccetera però adesso non c'è nessuna scusa non c'è il campo brutto non c'è il caldo non c'è la squadra che si chiude il Bologna è partito in avanti ma l'Inter ha detto giustamente Spalletti doveva fare la partita già all'inizio invece no e poi nemmeno quando il Bologna è calato alla distanza è riuscito ad avere un fraseggio eh fluido decente nello stretto con qualità ma con coraggio soprattutto con coraggio allora ehm andiamo sui voti e vediamo se siete d'accordo eh Andanovic vi do così come anche per Miranda e Skriniar cinque e mezzo a tutti e tre ehm non per il gol Andanovic ma un po' per per esempio qualche rinvio sbagliato anche nel primo tempo uno addirittura è stato una ripartenza del Bologna eh molto pericolosa e quindi c'è anche quando tu batti una rimessa o rinvii e fai anche capire insomma se sei eh concentrato poi sul gol non credo che avesse particolari colpe ma gli do cinque e mezzo per quanto riguarda eh Skriniar cinque e mezzo perché sul gol eh a un certo punto si era capito che il centrocampo era saltato Vesino era in ritardo non riesce nemmeno a fare fallo Borca Valero era era davanti eh la difesa è colta di sorpresa non ha senso continuare a è vero che lì succede tutto in pochi attimi eh però si poteva avere la lucidità per andare più davanti a un certo punto fermarsi non continuare a indietreggiare e dare lo spazio a Verdi che è stato tra l'altro bravissimo a tirare Miranda anche perché come Crotone ogni tanto un po' di superficialità intanto vedo le pregiare anche di Cristian e vediamo tra un po' se siamo se siamo d'accordo dicevo Miranda anche a volte troppo lezioso così come se fosse una partita eh sempre più cattiveria soprattutto da parte sua da parte di Andanovic da parte dei grandi o con le parole o con gli atteggiamenti in campo o anche i più giovani dare l'esempio di eh andare a Bologna e comandare la partita nel primo tempo eh non avere paura di affrontare anche il Bologna ha giocato tre giorni fa non è che il Bologna ha cambiato chissà chi a parte Petkovic non sa eh gli altri gli altri erano quasi tutti uguali gli stessi eh allora eh quindi dicevo cinque e mezzo a Andanovic Miranda e Skriniar do eh cinque a Nagatomo eh non mi è piaciuto anche lui in personalità lui ha trentun anni anche se è piccolo deve essere uno di quelli che deve dare molta più molto più impatto eh convinzione e poi Verdi è stato il migliore in campo è vero che a volte andava a sinistra dalla parte di Ambrosio però principalmente partiva da da destra D'Ambrosio gli do la sufficienza ed è una delle due uniche sufficienze che do perché quando Spalletti parla di Tigna questa è una squadra che ehm diciamo tende ad abbassare il livello di Tigna detto Spalletti ed è vero questo è un vecchio difetto dell'Inter tra l'altro forse volendo migliorare la qualità centrocampo qualche elemento più qualitativo ha abbassato ancora eh questo questo livello perché non so per esempio i Medel non Banega ma Medel sicuramente quella Tigna ce l'aveva e quindi eh Giovanni dice per esempio in Agatoma è l'unico che ha fatto un tiro pericoloso sì chiamiamolo poi Giovanni pericoloso perché è stato un tiro anche lì sbagliato perché è uscito non di molto ma non non ha colpito bene il pallone lì non c'entrava niente tirare dritto per dritto ma doveva colpirlo ad esterno tirare di destra vabbè comunque per quanto riguarda invece eh dicevo D'Ambrosio sei perché almeno cioè se tutti avessero quella convinzione che lui ha cioè eh dare il massimo eh poi per esempio Gio dice non aiuta per niente in fase offensiva no secondo me aiuta in fase offensiva per esempio l'ultimi negli ultimi minuti fino alla fine lui è andato in avanti eh Icardi non riesce a trattenere una palla per esempio come aveva fatto benissimo per Perisic a Torino l'anno scorso stavolta era lo stesso gioco di sponda tenere la palla c'era D'Ambrosio solo era proprio una delle ultime azioni e D'Ambrosio continuava ancora a spingere eh da quella da quella parte quindi lo sei a D'Ambrosio centrocampo cinque sia a Vesino che a Borcavalero eh per motivi diversi Vesino per non aver dato il massimo di quello che lui sa fare e Borcavalero per non aver dato il massimo di quello che lui sa fare eh lo stesso a Diago Motta dice ha detto fino alla fine per caso è Juventina no che c'entra però eh pure l'Inter deve eh tutte le squadre devono non è che eh l'espressione eh lottare fino all'ultimo è solo fino alla fine è solo della Juventus eh dicevo anzi per la loro al massimo è come era fino al confine se vogliamo andare di hashtag eh dicevo eh Borcavalero eh come ha detto Spalletti toccava la palla troppe troppe volte eh quindi si deve si deve cercare di velocizzare l'azione eh bisogna essere più eh proprio negli elementi più esperti più di qualità come come Borcavalero più rapidi più veloci e se non si è rapidi eh come per esempio non non lo era cambiasso bisogna far girare la palla velocemente Tiago Motta non era veloce ma faceva girare la palla velocemente quindi Borcavalero ieri non è stata sicuramente una una prestazione sufficiente e nemmeno eh non ho capito Tiago Motta che cosa continua a a scrivere per favore se stiamo stiamo parlando seriamente se vogliamo scherzare eh non volete essere insomma eh eliminati dal dal dialogo cerchiamo di di parlare della partita eh allora dicevo eh cinque a Borcavalero e a Vesino Gagliardini e Brozovic dò senza voto sono entrati troppo tardi soprattutto il secondo cambio come ha detto Spalletti si poteva fare un po' prima lui ha voluto aspettare perché proprio negli ultimi minuti il Bologna era calato dopo il pareggio si aspettava qualcosa in più e quindi ha aspettato eh ma forse anzi senza forse come è stato per eh Cancelo al posto di Candreva a Roma anche qui Brozovic al posto di Candreva dieci minuti più recupero sono pochi si poteva fare a massimo a metà secondo tempo almeno il secondo cambio secondo me eh terzo centrocampista qui le note più negative eh do eh no scusate cinque magari a a Gio Mario tre a Gio Mario eh quattro a Candreva cinque a Perisic e cinque e mezzo a eh Icardi Eder che è subentrato è la seconda sufficienza eh quindi oltre ad D'Ambrosio sei ad Eder quindi ricapitolo un po' i voti così ne discutiamo anche perché arrivano tanti messaggi mi piace poi interagire con voi perché questo è proprio interagire come ogni mercoledì pomeriggio ma non con gli ospiti proprio per avere più possibilità di dibattito di domande e risposta di interazione Andanovic cinque e mezzo da Ambrosio sei cinque e mezzo a Scrinia cinque e mezzo a Miranda cinque a Nagatomo cinque a Besino cinque a Borcavalero quattro a Candreva tre a eh Gio Mario cinque a Perisic cinque e mezzo Icardi Brozovic e Gagliardini senza voto Eder sei a Spalletti do anche la prima insufficienza di stagione eh cinque eh sia per non essere riuscito a eh come lui ha detto alla fine della partita la conoscenza ci conosceremo di più però magari alcuni eh era convinto come ha detto che in settimana mi ha ricordato Pioli quando diceva in settimana sembrava che la squadra fosse avesse capito qui non era in settimana perché erano solo due giorni ma si aspettava sicuramente un atteggiamento diverso che non c'è stato quindi e poi anche la seconda sostituzione il secondo tempo sicuramente è stato migliore del primo ma più per merito o demerito o comunque per eh la la benzina che era finita del del eh Bologna non ho giustificato i voti a Gio Mario che andreva Perisic Icardi eh Icardi eh cinque e mezzo il più alto dei quattro perché anche se ha segnato il rigore che non è mai scontato e l'ha tirato anche bene diverso dalle altre volte già il terzo col bar dall'inizio del campionato poi vedete se non cambiano le cose eh eh però nel gioco di Sponda anche lì nel venire fuori aria ad aiutare la squadra nella sufficienza è un'altra cosa soprattutto da un giocatore che deve essere il top player dell'Inter stessa cosa per Perisic come ha detto Spalletti troppo facile venire nella nostra metà campo e poi essere lontano dalle zone decisive la partita si gioca nelle zone decisive il campione anche quello che va addosso alle zone decisive eh Spalletti usa delle parole chiave chiave chiare nel senso che eh fa capire con la scappata dei difensori con l'andare a cercare la casina dietro il difensore centrale e lì devono avere il coraggio le ali di andarci anche se sono portati ad allargarsi che Andreva è iniziato bene perché ha fatto quell'assist eh gli ho dato quattro per Gio Mario che ha ciccato la palla al di là di ciccare la palla è stato un primo tempo davvero disastroso per il portoghese non può essere una scusa quella del trequartista il ruolo non ruolo eh bisogna avere proprio un'altra grinta dovunque ti mettano terzino portiere attaccante corre sempre come l'amichevole del giovedì e anche nelle altre partite dove ha inciso dove gioca bene o io gli ho dato un sei un'altra partita è entrato bene nelle prime due nella terza con la spalla il primo tempo non ha fatto male se procurati rigore sempre di fino di fioretto sempre perché poi tecnicamente no il calcio non è solo tecnica e anche agonismo e lui in agonismo è proprio insufficiente clamorosamente non va Eder per esempio ha fatto senza fare niente di incredibile vedere un po' di cattiveria agonistica e quindi questi sono i voti i voti della partita Davide dice Eder dietro la punta per il nostro il nostro problema è sbloccare le partite contro le medio piccole sì infatti Spalletti l'aveva detto l'avrei messo con la Roma se fosse rimasto l'1-0 ancora per un po' l'avrei messo con il Crotone se fosse rimasto lo 0-0 negli ultimi minuti anche se era già l'ottantaduesimo e qui infatti l'Inter perdeva alla fine l'ha messo un po' prima a volte forse si può provare anche a metterlo dal primo minuto con le piccole come diceva credo Alessandro adesso non mi ricordo il messaggio di chi però bisogna essere più più coraggiosi tutta la squadra perché se poi alla fine giochi con Eder e Icardi Eder può fare benissimo il trequartista comunque tornare più indietro non significa giocare per forza come le due con le due punte quindi sbilanciati però inizi poi se gioca Eder dal primo minuto a non avere in panchina tanti ricambi si può provare Eder alla destra dice Jake Crash poi vi invito a mandare a mandare i messaggi allora non in privato ma nella diretta qualcuno mi sta scrivendo in privato Eder difende più di Joe Mario dice Davide sì allora diciamo la verità non è che tutto negativo perché se pensiamo solo a Bologna dobbiamo anche pensare che il tredicesimo punto e tutti avremmo firmato per fare forze tutti io almeno sì perché a Roma dicevo un pareggio è buono tredici punti nelle prime cinque partite però però a Crotone c'è stato il campanello d'allarme a Bologna c'è stato la conferma cioè io dico ottimo aver vinto a Crotone perché l'hai portata a casa e quindi la la squadra convinta dei propri mezzi dice oggi c'è andata bene stavolta dovremo stare attenti dal primo minuto invece no questo abbassamento del livello di tigna come dice Spalletti che qualcuno c'ha nel DNA viene spontaneo però non deve essere così non può essere così perché bisogna stare sul pezzo dal primo al 95esimo di tutte le 38 giornate non c'è bisogno di essere il Napoli e la per battere il Crotone e il Bologna si può fare con i mezzi dell'Inter per ciò alcuni mi hanno scritto sul diario sono tornati indietro al mercato no a Bologna non c'entra niente il mercato perché il Bologna condonzata Ider Poli e Pulgar per tre maglie Baie mancavano tanti difensori Gonzales Masina che è comunque un buon prospetto e l'Under non sono giocatori più forti di quelli dell'Inter quindi è una questione proprio di testa di voglia di cattiveria di concentrazione e per esempio Cristian dice speriamo che Cansello si riveli un perno fondamentale sì secondo me sì a questo punto veramente l'inizio di Candreva del campionato è davvero scoraggiante non è possibile battere dieci calci d'angolo consecutivi bassi e non uno non riesce ad alzare la palla è entrato Brozovic il primo calcio d'angolo l'ha battuto bene quasi l'Inter stava segnando perché se tu batti mi ricordo quando Manzari diceva Hernanes sa battere il calcio d'angolo sa battere la palla inattiva la punizione eccetera eccetera fa sì che chi è bravo di testa fa vedere perché è bravo di testa ma se tu batti un calcio d'angolo così anche se un giocatore è forte di testa Miranda ha potuto fare un bel colpo di testa una volta eh Intergazza dice sul primo palo Michele incredibile è vero mirando un bel colpo di testa tra quelli battuti da da credo proprio da Candreva perché era l'unica volta che è riuscito a alzare un po' la palla Francesco dice ieri era a Bologna Candreva non ha secco un cross non parliamo degli angoli ma si allena a batterli Nagatomo ed Eder l'unica sufficiente c'è Omari inguardabile la difesa non ha preso una palla di testa sì sono d'accordo su Eder tra D'Ambrosio e Nagatomo scelgo di più D'Ambrosio per l'altra sufficienza perché attenzione di Francesco eh partiva sempre da sinistra Verdi a volte andava a sinistra a raddoppiare lì ma eh di solito Verdi comunque eh andava eh sul sul centro destra voglio dire quindi sulla nostra parte di sinistra poi eh quando bisogna avere l'uomo famoso a fianco a Borca Valero anche lì eh che sia un interditore eh Gio Mario dice Biadazzo quanti con la porta quota deve sbagliare prima di finire in panchina sì sono sono abbastanza d'accordo Simone dice bisogna comprare i campioni no Bologna Inter non è una questione di mercato e di campioni perché i giocatori dell'Inter sono più forti e hanno una quotazione nettamente superiori eh superiore dice Federico Tognoli giusto Simone no secondo me non è giusto perché eh la quotazione e il valore dei giocatori dell'Inter è superiore a quelli del Bologna quindi non c'entra niente il mercato tu a Bologna vai con un atteggiamento uno spirito diverso nel primo tempo non è una questione del Crotone gioca in contropiede quindi devo stare attento con i terzini a non alzare troppo la linea di difesa no qui Bologna se l'è giocata a viso aperto ti ha messo sotto ti ha creato pericoli il gol è arrivato nella terza occasione limpida anzi in una è stata una doppia palla gol perché è stato bravo Andanovic però dopo il tiro da fuori aria per poco non è andato in porta quindi c'è un'occasione sprecata l'Inter ha perso a Bologna i due punti che si era andato a prendere in più a Roma diciamo da tabella di marcia poi è vero che il quarto posto per il quarto posto 13 punti sono più che ottimi ma bisogna come disse Spalletti in conferenza prima della partita non si campa di rendita a questo giochino cioè se tu sei contento perché hai fatto 12 punti nelle prime quattro non allora intanto però volevo recuperare qualche messaggio dice in serie A bene o male Inter-Gaz è possibile che non abbiamo un tiratore dei piazzati e per esempio Eder è un tiratore in serie A bene o male ogni squadra i giocatori che hanno questo fondamentale faccio pratica a sceglierle uno dei nostri linea nazionale dice Michele al centro campo siamo stati sovrastati e Gio Mario faceva la signorina come si fa e infatti quello è il problema cioè Spalletti quando punta anche ma quando anche si punta queste state per esempio non su un giocatore come Banega proprio perché Spalletti predilige in quella zona un giocatore più di corsa più fisico più di impatto Banega forse ieri si è sentita la mancanza perché magari in quella mediocrità avrebbe acceso la luce però per l'idea di calcio di Spalletti cercare un Brozovic cercare un altro tipo di trequartista sul mercato una crescita per Gio Mario che comunque ha tutte le caratteristiche perché quello che gli manca è quello che si può facilmente migliorare non è la cosa più difficile quello che gli manca c'è la cattiveria agonistica il furore qualcuno dice vabbè o ce l'ha io non ce l'hai il coraggio non è che ce l'hai nel DNA non è che te lo puoi dare però consideriamo che nello sport in Lisbona nel Portogallo lui giocava esterno che Andreva non sta rendendo bene e si chiede anche agli esterni di accentrarsi di più ecco per esempio Jacopo tocca il problema del modulo e io sono d'accordo per esempio in questo caso ma non per forza con il 4-2-3-1 uno che sia quello il problema ma proprio nell'interpretazione di quel modulo quindi Mario dice noi non abbiamo un tiratore da fuori aria dei tempi di Stankovic manca uno così dimmi uno che tira fuori dei nostri lo dicevo Eder per esempio uno che il tiro ce l'ha sempre fatti gol da lontano certo non sta giocando gioca la prima alternativa davanti anche Brozovic volendo quando diciamo c'è con la testa Giovanni dice tutti aspettano la palla da fermi gli avversari invece si muovono Andrea dice non abbiamo un giocatore capace di battere un calcio d'angolo un calcio di punizione saltare l'uomo 45 milioni per Gio Mario dice Cristian come è stato possibile sì perché è stato possibile perché dopo l'europeo i giocatori che vincono sono sempre ipervalutati su Ning era appena arrivata non c'era un piano diciamo di sviluppo tecnico di idea di gioco perché l'allenatore non si sapeva nemmeno se restava Mancini o no poi anche con De Burre allora si è voluto prendere un giocatore diciamo richiesto da tutti top per dimostrare che era arrivata la nuova proprietà e non vendeva i migliori in più non riuscendo a prendere magari un giocatore top da 7 8 milioni di ingaggio all'anno perché non c'era non c'è quella possibilità si è andata a prendere un giocatore più giovane ma elogiato da tutti in quell'estate però non è così che si fanno le squadre poi adesso però si è iniziato un nuovo percorso e diciamo si è fatto un mercato condiviso con l'allenatore io credo che su questo sarà inevitabile migliorare la squadra quindi lo stesso Spalletti che ieri dice anche la conoscenza il grado di conoscenza deve aumentare e questo è verissimo perché lui nonostante sia l'Inter ormai luglio agosto settembre quasi tre mesi non è che può conoscere a memoria i margini di miglioramento di tutti e quindi già o Mario ha le potenzialità ma l'Inter non è che aspetta all'infinito o può aspettare permettersi di aspettare all'infinito tutti poi c'è chi parla anche di Cardi come Remus che dice fraseggia con i compagni deve fraseggia di più con i compagni vincere un duello fisico Massimiliano condizione atletica Crotone Bologna sempre più di sulla palla e perché manca uno specialista sulle punizioni dice sempre forza Inter allora sulla condizione atletica io credo che per esempio anche lì per questo dato un'insufficienza anche a Spalletti però lui ha detto che non se l'aspettava si poteva fare più che Vesino al posto di Gagliardini e Nagatomo al posto di Dalbert anche 4-5 cambi non dico per forza 5 ma almeno 3 o 4 anziché 2 ma non con il senno di voi proprio perché l'Inter a differenza della piccola il Bologna il Crotone con tutto il rispetto poi per la storia del Bologna ha sicuramente una rosa più qualitativa rispetto a queste squadre quindi loro devono tirar fuori dal barile dal fondo del barile tutte le energie e si è visto che vanno i crampi il Crotone il Bologna partite ravvicinate l'Inter invece deve sfruttare il fatto che Gagliardini Vesino manca poco va bene Gagliardini gioca una partita Vesino gioca un'altra e hai diciamo non una grande differenza tra tra i due e però hai quello fresco dopo soli tre giorni questo discorso si poteva fare anche in altri reparti ripeto che Andreva sta dando segnali di non ottimi diciamo così non muori da ormai troppe partite Cancelo ancora non c'è Brozovic può fare l'esterno lo ha fatto tante volte quindi è vero che Spalletti qui parla di conoscenza perché lui l'ha più valutato da trequartista però Brozovic ha fatto tante volte sia in nazionale che con Mancini l'esterno di destra quindi non credo che potesse dare un rendimento più basso di Candreva e magari un turno di riposo a Candreva poteva essere anche utile per quanto riguarda gli altri ruoli in cui si poteva cambiare qualcosa abbiamo detto che Andreva magari non dal primo minuto Vesino è stato fatto Nagatomo è stato fatto nel ruolo di Gio Mario visto che si giocava contro il Bologna e Gio Mario è vero aveva fatto bene fino alla fine con il Crotone perché aveva entrato nelle azioni anche del due a zero sembrava stesse bene fisicamente diceva ma solo il primo tempo ha sbagliato è vero però se vai contro una squadra così secondo me Eder che non era entrato così come Brozovic dal primo minuto Eder e Brozovic erano proprio i classici due titolari da partita dopo tre giorni quindi io mi sarei aspettato oltre a Vesino e Nagatomo Eder e Brozovic dal primo minuto per Gio Mario e Candreva che restano i due diciamo punti i due intanto è iniziato il benedetto Roma quindi seguiamo anche oggi il campionato è bello perché ci sono partite scontri diretti due Fiorentina che non è uno scontro diretto perché se la Fiorentina sta per pareggio è un miracolo secondo me però Lazio-Napoli già una bella partita io credo che l'Inter debba più augurarsi una vittoria del Napoli sia perché il Napoli può contrastare la Juve nella lotta allo scudetto e quindi almeno non vedere il settimo campionato consecutivo della Juve e due perché la Lazio una rivale insieme al Milan per il famoso quarto posto ripeto quarto posto che bisogna raggiungere con le uglie e con i denti non bisogna fare gli schizzinosi questo l'aveva detto però anche in estate Spalletti eh Liborio dice sono molto preoccupato per il posto in Champions League eh Alessandro Eder si sacrifica sempre in campo è vero eh Michele non arriveremo quarti siamo onesti dice sempre forza Inter no secondo me eh si può arrivare quarti la Roma ha una rosa superiore io lo dicevo al primo settembre con il mercato chiuso però si sta un po' rimettendo a posto secondo nuovi dettami nuovo allenatore e bisogna approfittare quando si gioca queste partite cioè in queste partite non c'è bisogno di essere la seconda o terza forza del campionato per vincere c'è bisogno di avere quella forza quella grinta quella voglia che non può avere il Bologna più dell'Inter né il Crotone più dell'Inter eh se no poi lì ti meriti ti meriti di non ottenere i tre punti ieri se andiamo a vedere la meritocrazia di quella che è stata la prestazione il punto è guadagnato ma per un percorso verso eh il quarto posto eh queste partite non ci si può accontentare di dire abbiamo guadagnato il punto a Bologna no perché questo è un campionato spaccato in cui ci saranno il Crotone la Spal il Lellas Verona il Bologna l'Udinese il Chievo sono squadre in cui bisogna puntare a fare i sei punti andate e ritorno con con questi avversari qui per poi poterti giocare a mente libera gli scontri diretti poterti permettere qualche passo falso eh però dal punto di vista della mentalità si deve fare questo passo in avanti e Spalletti ripeto o lui o nessuno ci può riuscire perché quando lui dice alla fine della partita bisogna andare addosso all'avversario bisogna non giocare comodi bisogna andare a cercare la zona dove si fa male non avere paura di andare a cercare quella e poi aggiunge attenzione perché lui dice e se non si capisce questo chi non fa questo non gioca più si cambiano le scelte va subito giustamente alla quinta giornata già come aveva detto in conferenza stampa la presentazione io sto dalla tua parte proprio una mia domanda su Gio Mario a metà giugno nella presentazione disse non ci diamo le mani quando usciamo sostituzione lo mettiamo subito la regola non si dà la mano io sono amico di tutti difenderò tutti i giocatori fino alla fine però fin quando loro rispettano le regole quello che gli chiedo Francesco dice Cardi se non migliora non diventerà mai un top dice rimarrà solo un buon giocatore Spalletti dice nelle interviste che deve fraseggiare di più con gli centrocampisti e lui non esce non esce dall'aria di rigore se avessimo tenuto Banega come trequartista potevano nascere dei fraseggi interessanti tra lui Valero e Besino Mario dice come lo vedi il 4 3 2 1 e con Perisic dietro Eder dietro Icardi e poi dice meglio ottavi che quinti sempre Forza Inter purché si investano 200 milioni al prossimo mercato no 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 però sempre Forza Inter io ti rimando all'interagire di mercoledì scorso in cui sono tornato su i budget il fair play finanziario come si rispettano e si possono spendere in in base al fatturato tra l'altro oggi è una giornata importantissima per il calcio mondiale perché sia Seferin ma anche Infantino la nascita della Nation League cioè si capisce che dai tempi di di Blatter insomma ma anche del la gestione precedente o altre gestioni della UEFA si sta cambiando qualcosa il calendario internazionale non so se avete seguito la Nation League come sarà dal 2018 ci sarà questa coppa non ci saranno più partite non è una coppa in più innanzitutto non c'è la Confederation Cup poi con questa Nation League per le nazionali quindi diversa Nations nelle pause di settembre ottobre novembre del campionato anziché fare sei partite se ne fanno solo quattro e tu le quattro partite l'Italia le farà in una serie A europea di nazionali le nazionali sono divise in serie A serie B C e D le prime dodici del ranking quindi anche l'Italia fa parte della serie A ci sono quattro squadre e tu affronti le altre tre avversari andate e ritorno quindi fai no scusate i gironi sono sono da da tre quindi sono quattro gironi da tre tu affronti andate e ritorno le altre squadre sono quattro partite e poi chi vince va a fare la final four a giugno a giugno quindi puoi vincere nell'anno dispari quindi prima degli europei prima dei mondiali questa Nations League secondo me dà un po' più di pepe alle manifestazioni non ci saranno più tante amichevoli se non forse quelle di agosto e poi le classiche qualificazioni saranno da marzo a da marzo a novembre dell'anno solare quindi viene un po' ristretto anche il calendario delle qualificazioni insomma adesso forse più complicato così a raccontarlo a parole che non puoi andarlo a vedere però lo vedremo dall'anno prossimo e oltre a questo quello che interessa di più l'Inter è il discorso che ha fatto Seferin sul miglioramento del fair play finanziario sul salary cap c'è il tetto di guadagni che vedremo se si riuscirà sulla luxury tax c'è il fatto che per esempio come nell'NBA il grande giocatore che nasce dalle università va a finire nella squadra classificata per ultima e per riequilibrare le forze e quindi cercare di dare la possibilità si capisce si è capito il problema da parte della UEFA diciamo per come l'impostazione oggi principale del calcio europeo c'è si sta andando sia nelle leghe nazionali per esempio nella Serie A ma anche nella Bundesliga nella Liga e nella Ligan verso una spaccatura tra squadre troppo forti e sempre più forti e squadre deboli sempre più deboli e quindi bisogna intervenire ed è chiaro il problema e ci sono le chiavi per risolverlo intanto la Roma è sempre in 0 a 0 dopo 8 minuti per esempio di Francesco anche sta facendo turn over siamo senza margini di miglioramento dice Maria Chiara questo mi preoccupa molto si spalletti è un bravo allenatore no Maria Chiara io non sono d'accordo che l'Inter è senza margini di miglioramento perché è una squadra che a differenza per esempio del Napoli della Juve nasce adesso cioè visto che è stata tirata in ballo la Juve prima con lo slogan fino alla fine allora la Juventus di Conte nel 2011 aveva preso quattro giocatori Licksteiner, Pirlo, Vidal, Pirlo a parametro 0, Vidal a 10 milioni circa e Vucinic e c'erano dei giocatori da rigenerare i Barzagli, Bolucci, Chiellini, Marchisio che con Del Neri aveva giocato alla sinistra era una squadra che si era proposta di in tre anni lottare per lo scudetto e con le unghie e con i denti mi ricordo Conte già dalla prima giornata inizio con atteggiamenti di aggressività anche nello scontro proprio mediatico proprio tante strategie che portassero la squadra a essere sempre sul pezzo Spalletti sta facendo lo stesso certo con una differenza che se Pirlo è uno diciamo che non ha la tigna massima grandissima per qualità era circondato da Vidal e Marchisio non c'era ancora Pogba per esempio però la Juve aveva messo dei tasselli al posto giusto questi tasselli li ha messi anche l'Inter quest'anno c'è Skriniar dà qualcosa in più di Murillo in attenzione in concentrazione in per tutta la partita poi lasciamo stare il gol di ieri Borca Valero mancava nel nel centrocampo dell'Inter un giocatore di quella qualità quindi Dalbert non è quello che abbiamo visto finora Dalbert è un giocatore che sicuramente può fare molto meglio di Nagatomo allora Cancelo lo dobbiamo ancora vedere l'Inter ha messo dei tasselli ora questi tasselli devono amalgamarsi prima di tutto tra di loro e in più e in più lottare su ogni campo mi ricordo la Juve di Conte quell'anno aveva già perso alcune partite poi li riprendeva per il lotto della cuffia perché non usciva mai dal campo l'Inter ieri non riesci a giocare non riesci sei sovrastato dal Bologna che ha giocato meglio quando però il Bologna cala devi avere una fame di vincere in quegli ultimi minuti non puoi fare tutti quegli errori di passaggi e di precisione clamorosi non si può concedere per tutto quel quel 15 minuti di nulla 15 minuti in cui non si è riuscito per esempio anche Perisic no io ho dato 5 a Perisic perché Perisic quando ha quella palla sulla destra e tira alto oppure quando nel primo tempo al 44esimo ti accorgi che c'è perché fa lo scatto e il cross sono troppo poco cioè i tre quartisti i fuoriclasse se tu vedi una partita di un fuoriclasse a livello europeo in ogni partita con le piccole da come ha detto Spalletti prima di Crotonente il campione non è quello che fa la giocata alla Perisic 2 a 0 in casa con la Spall bomba sotto l'incrocio al volo no quello lì può venire fuori a chiunque il campione è quello che in tutte le partite mette il suo marchio ieri Perisic non ha messo il suo marchio quindi non è un campione a 28 anni i cardi uguale però a 24 anni a più margine di miglioramento sono giocatori che devono ancora fare il salto di testa per diventare campioni e lo possono diventare Massimiliano dice Icardi ha fatto sei gol e Percovic certo poi i rigori sono d'accordo con te bisogna anche saperli saperli tirare quindi anche un merito quello che però voglio dire è che a Bologna ci si deve aspettare si deve pretendere un atteggiamento diverso e Spalletti ripeto l'ha ripetuto parecchie volte alla fine della partita andare addosso mi è piaciuto molto quando già non ha avuto nessuna remora forse Violi a volte difendeva troppo la squadra ieri Spalletti già non la difesa più già non la difesa più ha fatto capire che chi non segue certe regole non fa alcune cose che gli vengono richieste si cambia io mi ricordo per esempio Gasperini con l'Atalanta qua chi dice il mercato la rosa lunga lo stavano mandando via ha tirato fuori 4 5 ragazzi che tutti avevano una fame clamorosa e andavano su ogni pallone ha vinto in campo neutro con il crotone la partita che doveva essere quella dell'esonero e poi ha vinto con il Napoli è partita l'Atalanta oggi che si è andato al Milan Conti al Milan Gragliardini all'Inter caldare già della Juve poi sempre forza l'Inter dice ma chi ha vinto qualcosa da noi a parte di Ander sì no ho capito ma siamo siamo d'accordo però stiamo parlando della Serie A non del campionato del mondo quarti di finale o della Champions League perché l'Inter oggi se vai in Champions giocano al Bayern Monaco giocano al Barcellona fai brutta figura ma la squadra quest'anno e in questo contesto non deve arrivare ai quarti di Champions League o arrivare seconda nel girogino di Champions League quello deve essere un passo l'anno prossimo un passo in cui bisogna Maria Chiara che intanto dice io l'avevo detto quest'estate che a 28 anni non si diventa fuori classe io avrei venduto avrei venduto Perisic sì però è anche giusto farsi rispettare sul mercato perché l'Inter vendendo Perisic avrebbe avuto un budget più alto però non è che andavi a prendere Robben o quelli più forti di Perisic poteri prendere per esempio Keita o forse anche Keita e chic tutti e due con i soldi di Perisic con diverse operazioni e quindi avevi una forza superiore in totale come squadra e sperare anche che ti andasse bene perché poi Keita a me piace tantissimo però non so se ad oggi per arrivare quarti è più una sicurezza di Perisic forse no io l'avrei fatto dopo quest'estate ho detto l'avrei fatto però certo se tu chiedi 50 milioni poi non lo puoi dare a 40 o a 30 a 35 40 al Magisteri United cioè secondo me hanno fatto bene a trattenerlo adesso sta a Spalletti cioè credo che lui l'ha capito benissimo il problema è tenere questi qua sulla corda perché visto che il gruppo è lo stesso dell'anno scorso e lo stesso dell'anno scorso con sette acquisti ma di di cui uno è Padelli il secondo portiere e non è che Carriso non faceva gruppo quindi diciamo sono sei di cui uno è 19 anni e giovanissimo e un altro infortunato è Cancelo quindi scendiamo a a 4 4 5 nuovi il gruppo è quello dell'anno scorso il gruppo dell'anno scorso era un gruppo che faceva diciamo per niente fatica a rilassarsi quando l'obiettivo non si raggiungeva ecco per raggiungere l'obiettivo se l'obiettivo è il quarto posto e tu sei primo ti scatta diciamo bene dai stiamo facendo bene no no la partita importante il campione è quello oppure uno che anche aspira a essere campione deve mettere il marchio il suo meglio in tutte le partite ma per questo io elogio sempre gli D'Ambrosio e gli Eder e anche ieri sono stati gli unici due anni sufficienti perché tu sai che anche mediocri non fuori classe non sono mai con Sneijder né trequartista né terzino destro del triplete però franci franci amato dice cerchiamo di dare il giusto peso alle cose fino a ieri eravamo la squadra della scudetta e oggi da buttare no da scudetto non siamo mai stati e ne lo siamo maria chiara anche dice ciuscic mi sono arrabbiata anche io secondo me c'è qualcosa di strano sotto e forse ha fatto bene con la mafia della juve se l'ha ammollato c'è un perché no io quello che volevo dire su D'Ambrosio Eder è che ci sono i giocatori l'abbiamo visti anche l'anno scorso che non mollano sono una minoranza in questo benedetto spogliatoio e però l'allenatore deve trovare il modo di tirare dentro più sì jake ho capito che D'Ambrosio aveva ma D'Ambrosio quando disse quelle dichiarazioni lui disse per fare un'analisi che cosa è potuto succedere da inter Sampin poi disse secondo me abbiamo mollato inconsciamente ovviamente inconsciamente nella testa non c'era l'obiettivo e non c'era più la fame non è che ha detto noi abbiamo deciso di mollare poi su quello abbiamo parlato tanto ad aprile già dell'anno scorso io non starei tanto a tornarci io ho visto ieri per esempio Masina si è dovuto aggrappare alla maglia di D'Ambrosio per tra l'altro lì era munizione netta qualcuno si è lamentato del rigore un rigore sacrosanto già occhio nudo poi l'ha visto anche il VAR c'è ancora Donadoni che dice siamo stati derubati incredibile se non è rigore quello ecco perché io volevo il VAR perché col VAR l'Inter ha avuto tre rigori clamorosi netti nelle prime cinque giornate e c'erano clamorosi netti tutti e tre il fallo di Astori sui Cardi nella prima giornata il fallo su Gio Mario in casa con la Spal e il fallo di ieri in Baie che un diciamo ingenuotto che mentre cade con la mano in avanti va a prendere la gamba di Eder ma cosa ti vuoi attaccare? Il cosa ti vuoi attaccare a Donadoni che continua a dire queste cose l'anno scorso anche dopo Bologna-Napoli una sette disse delle cose assurde che la partita l'arbitro l'aveva un po' indirizzare eccetera eccetera io Donadoni stravedo per Donadoni giocatore alla destra era l'unico tra l'altro che mi stava anche simpatico non interista fuori classe di altre squadre c'è veramente Donadoni era un ala destra voi più giovani magari se c'è qualche giovane collegato non se lo ricorda ma era proprio l'ala destra che servirebbe al posto di Canneva c'era fantastico Donadoni come ala destra fortissimo puntava l'uomo si abbassava si inarcava un po' saluto intanto Nicola Masi si si inarcava e gli arrivava il difensore movimento di corpo e saltava sempre l'uo sempre lo saltava sempre cross precisissimi e aveva veramente un intanto il benevento vicino al dolo il diciottesimo benevento Roma sempre zero a zero si è anche infortunato il forza un giocare della Roma tra un po' tra un po' vi dico interessante questa giornata tra l'altro Bruno Perez ha subito un contrasto non credo sia niente di grave dicevo Donadoni era un ala eh poteva veramente segnare benevento la Roma dietro ha qualche problema non è messa meglio di noi a livello difensivo proprio di interpreti col calcio molto offensivo di Francesco potrebbe pagarlo questo discorso qua Strockman oggi intanto è capitano non gioca perotti pensiamo pensiamo a noi mi accontenterei dice di Alessandro Bianchi dice Cristian grande Alessandro Bianchi anche lui però Donadoni era di un livello superiore a livello di classe poi Bianchi è nel cuore di tutti noi mi ricordo tra l'altro un grandissimo gol che fece a Genova Sampdoria Inger 2 a 2 nella penultima giornata una specie del gol di Maicon ve lo ricordate il gol di Maicon contro la Juventus l'anno del triplete ecco Alessandro Bianchi fece un gol così anche leggermente più difficile con il doppio sombrero e il tiro al volo a Genova con la Sampa la penultima giornata nell'anno di Grazia credo fosse 93 94 in cui l'Inter poi si salvò l'ultima giornata e vinse però la nella Coppa UEFA povero Alessandro Bianchi poi è un infortunio clamoroso rottura della gamba in quattro punti diversi Sacchi lo convocò anche in nazionale stravedevo perché era un di cui i giocatori si applicavano applicavano molto quindi grande Alessandro Bianchi è fatto bene Cristian a ricordarlo perché e però vedi c'è la conoscenza che dice Spalletti della Rosa fa sì che non è vero che l'Inter ha sta rosa così corta come sembra perché Candreva non è proprio necessario intanto vi invito giustamente a iscrivervi al canale perché io dico sempre noi abbiamo il lunedì e il venerdì sera obiettivo l'Inter con gli ospiti il mercoledì pomeriggio interagire proprio per leggere di più i vostri messaggi poi ci saranno altri appuntamenti però sempre di più gradualmente anche in base a la vostra voglia di interagire di parlare come state facendo per esempio oggi seriamente di calcio con le vostre obiezioni vostri dubbi le vostre considerazioni e se vi piace parlare di calcio così analizzando le partite eccetera eccetera sarebbe bello avere anche più appuntamenti però serve anche che questo benedetto canale oltre alla pagina facebook interfantv che è già molto molto seguita grazie anche a Giuseppe amministratore fondatore della pagina anche il canale youtube possa avere un po più iscritti quindi vi ringrazio tutti quelli che avranno la voglia per due minuti di perdere poi dopo la diretto durante insomma a iscriversi al canale e interagire dico anche a tutti quelli che mi iscrivono per esempio in privato al momento è il punto fisso della settimana il mercoledì pomeriggio in cui possiamo appunto parlare tranquillamente di inter adesso ci sono il geno e il benevento se l'inter ha imparato la lezione e si è presa anche il punto ieri quindi 13 punti va bene su candreva sono d'accordo quello che state prima meno scrivendo jack dice i prossimi andreva normale oggettivamente ma scherziamo il calcio d'angolo si il calcio d'angolo è stata una cosa assurda perché quando tu sbagli tre calci d'angoli consecutivi basta cioè batte un altro non è che può battere solo lui si può dire che dopo quattro giornate si è capito che in alcune partite sporche c'è Mario e Borca sono giocatori che dovrebbero partire dalla panchina perché più decisivi partendo dalla panchina quando i ritmi sono bassi secondo me dipende anche molto da da come li vede in settimana perché così parlare in astratto senza capire poi come è stata la settimana cioè lui li vede in settimana magari tu sai che in quella settimana candreva ha fatto benissimo non è che se lo sceglie lui non è cosciente di quello che gli può dare poi magari uno ti può deludere attenzione intanto perché c'è il gol della Roma il gol della Roma Benevento povero Benevento che sta perdendo tutte le partite a zero punti e qui giallorossi contro giallorossi e il derby giallorosso però la Roma è in bianco e l'Inter deve andare a Benevento proprio il primo ottobre quindi ecco la grande squadra adesso non voglio dire che Benevento è come il Bologna però la grande squadra cerca già nella prima mezz'ora di far capire ecco se ne è andato da sinistra se ne è andato da sinistra Kolarov ha crossato per Dzeko e Dzeko a porta vuota praticamente il difensore del Benevento si è disinteressato di Dzeko al centro dell'aria e si è messo a seguire Kolarov a vederlo da lontano perché già c'era il terzino che lo seguiva poi anche il centrale c'erano tre difensori di Benevento disinteressati a Dzeko è stato un giochetto da ragazzi per Dzeko proseguire la sua corsa verso la porta ed era praticamente solo e Kolarov l'ha servito partita che ormai secondo me è già finita un quarto di partita è finita perché è vero che il Benevento aveva schiorato il gol prima la Roma dietro magari qualcosa la concede sempre ma passare in svantaggio per il Benevento con una squadra come la Roma sarà molto molto difficile qualcuno dice ma se facciamo fatica pure con Benevento buona notte sì dobbiamo aumentare il fatturato dice sempre Forza Inter è vero però non saremo sempre tra il quinto e il decimo posto perché il fatturato del Napoli è inferiore al nostro il Napoli semplicemente ha seguito un progetto tecnico prima di noi adesso è già avanti e quindi gioca meglio ha potuto rinforzare la squadra non è che spende di più dell'Inter sì più che Caramon secondo me proprio Cancelo ma anche Brozovic come esterno di destra ma vi dirò di più anche Gio Mario Gio Mario è vero che giocava a sinistra nel Portogallo non esporti in Lisbona ma lui può giocare benissimo a destra perché tanto da destra può crossare a il destro con la prima giornata con chi era il 3 a 0 con la Fiorentina l'assist a Paris ci viene proprio da un bel cross di Gio Mario da destra lui non ha il tiro non ha il anche quando ieri si è presentato che Andreva solo gli ha fatto un bellissimo passaggio dopo 50 secondi era già un a 0 per l'Inter la squadra forte il gol di Gio Mario oggi è vero a porta libera non è proprio come quella ma non è che è proprio molto 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 più complicato non puoi lisciare completamente la palla così se non sei sicuro magari cerchi anche lo stop ma lì devi andare con un'altra cattiveria un'altra precisione quindi lì cambia già la partita allora siccome tu sei praticamente inconcludente il trequartista lo fa un altro può fare appunto Eder oppure giochi con le due mezze ali però lo stesso cambia poco perché mezze ali o 4 2 3 1 sempre uno che va al tiro ci deve essere quindi secondo me Eder al momento è il migliore che può fare quel volo lì per quanto riguarda quello della della destra anche con il Genoa mi auguro di vedere insomma una variante sempre forza inter dice magari vedere Amsic sì ma infatti Gio Mario ha detto Amsic e Nainggolan sono il mio punto di riferimento e però quelli tirano in porta bombardano proprio Nainggolan e Amsic bombardano quando hanno il Pio Gio Mario no ha sbagliato quel gol di sinistro a Crotone dice era difficile perché era in corsa e stavolta era difficile perché il cross era forte e era sotterra di Candreva è sempre difficile Maria Chiara dice non è un trequartista va bene però il giocatore forte ripeto è forte Candreva trequartista dice sempre forse no Alessandro dice serve più velocità nella manovra mi auguro che lavoreranno su questo sicuramente Alessandro è centrato il punto non si può giocare camminare per il campo bisogna avere anche se tu hai meno benzina dai tutto e dopo un'ora esci non che ti gestisci proprio Spalletti mi è piaciuto quando a un certo punto ha detto alcuni giocatori vedevano che magari era più complicato e venivano nella nostra metà campo esterni a giocare molto dietro la linea della palla comodi non serve a niente così ha detto è vero non serve a niente quindi siamo nelle mani migliori che potevano esserci lui vede il calcio prima di noi capisce meglio di noi i problemi ha già in mano la rosa a livello di qualità e quindi secondo me Spalletti subito già con il Genoa vedremo qualcosa di di diverso Nicola dice ma Banega avrebbe dato sì sì Nicola l'avevo detto tutti sei collegati un po' dopo ho detto nella partita singola di ieri sì secondo me Banega avrebbe sicuramente acceso la luce mi ricordo non so Cagliari Inter però mi ricordo anche delle partite in cui Banega era il primo ad andare a ritmi bassi quindi se tutta la squadra non reggeva Banega cioè la squadra non era alta non era chiusa con linee vicine col baricentro alto per esempio come è stata l'Inter nel secondo tempo ma soprattutto nel nel finale lì Banega sarebbe venuto fuori secondo me ma nel primo tempo dove la squadra faceva proprio fatica a ripartire sarebbe stato anche Banega così risucchiato in questo in questo purtroppo non non gioco Franci Amato dice Banega è andato via perché è stato lui a volersene andare no no era molto più facile vendere Gioao Mario oddio Mario a bilanciere a 36 quindi facile no però il Paris Saint Germain l'avrebbe sicuramente in qualche scambio in qualche si poteva volendo proprio scegliere però si è pensato che Gio Mario fosse un giovane un giocatore che può dimostrare quello che non ha dimostrato l'anno scorso che può crescere con spalletti che può anche perché lui ha qualità a livello fisico diventare un giocatore più completo intanto la Roma ancora attacca con per occhi e strotto ma niente siamo alla mezz'ora sempre 1 a 0 a Benevento Banega invece un giocatore di 29 anni che l'anno scorso ha mostrato delle grandi solite qualità che tutti gli riconosciamo un giocatore fantastico dal punto di vista della tecnica balistica proprio ma devi costruire la squadra intorno a lui e giocare un certo tipo di calcio spalletti ha sempre giocato con il 4 2 3 1 che va bene per Banega ma con un trequartista di corsa tant'è che a Medel disse mi ha guardato come disse spalletti come per dire ma mi stai prendendo per il per il per il cili e perché perché gli aveva detto io ti vedo trequartista perché lui trequartista vuole un giocatore che vada a dare fastidio e rompere gli equilibri nella parte focale del campo Banega invece di permettere di più un gioco di possesso di squadra diciamo alta più spagnoleggiante ecco a spalletti piace anche giocare sugli esterni con gli strappi in velocità con un'aggressività diversa Banega secondo me più per un gioco un po' diverso ecco quindi Banega non voleva andar via lui è stata fatta una scelta e quindi quella quella è più che altro ieri a me è venuto qualche dubbio in più su Vesino Giorgio dice Medel non è tanto diverso dal Vesino visto ieri ecco appunto me l'hai letto proprio nel pensiero Remus dice secondo me spalletti dovrebbe rendersi conto che con gli uomini che hanno può fare quello che vuole è adattarsi lui a loro sì adattarsi però devi scegliere comunque un percorso secondo me l'alternativa lui dice Andy balla Candreva al centro e Giorgio Mario a destra anche l'ha detto il medico che deve giocare Candreva secondo me può giocare Giorgio Mario a destra ma al centro può giocare Heather secondo me Heather è molto più trequartista di Candreva quindi Candreva quasi quasi voglio dire da terzino anche se poi recupera Cansello io sono molto curioso intanto parlo della Roma attenzione parlo di Bruno Peres dico da fuori aria la Roma per esempio ha tanti tiratori e con l'Inter è passata questa leggenda metropolitana che la Roma ha dominato per 70 minuti no la Roma ha dominato per 15 minuti dal quinto del secondo tempo al ventesimo cioè da 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 quinto minuto del secondo tempo a l'uno a uno di Cardi nel primo tempo l'Inter ha avuto più possesso palla più occasioni più tiri e la Roma ha fatto due grandi tiri da fuori con Kolarov palo e con Nainggolan palo e allora negli highlights lo metti insieme al palo di Perotti e sembra che la Roma ha dominato i primi 70 no ma lo disse anche mi ricordo una bella analisi di Stefano De Grandi a Sky Sport io non lo so perché alcuni dicono rimasta nella storia Roma-Inter la Roma ha preso a pallate l'Inter per 70 minuti per niente non è vero rivedetevi la partita e non è affatto così poiché l'Inter nel primo tempo non è riuscito a creare grandi pericoli a parte la doppia occasione di Candreva Icardi che a porta vuoto aveva sbagliato a parte che l'Inter aveva dimostrato diciamo lentezza ma anche poca lucidità con Gagliardini davanti alla difesa insieme a Vecino Borca Valero era più davanti in quel primo tempo però non è vero che la Roma ha dominato nel primo tempo contro l'Inter basta rivedersi la partita proprio sono dati oggettivi così come invece è vero che il Bologna ieri meritava meritava di vincere il primo tempo poteva andare anche su un doppio vantaggio come ha detto Spalletti alla fine della conferenza stampa io però posso guardare in alto con testa alta il mio interlocutore il mio avversario perché non abbiamo rubato nulla e su questo sono 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 d'accordo il rigore ranetto mi dispiace solo che l'Inter non ha fatto tutto quello che doveva fare per poterla andare a vincere questa benedetta partita ricordo che stasera tra l'altro dopo Benevento Roma ci saranno oltre a Milan spalla soprattutto attenzione al Benevento però eh perché la Roma quando viene attaccata concede le palle gol e quindi vediamo vediamo come si sviluppa perché certo è strafavorita la Roma però sai Juan Jesus dietro Bruno Peres Fazio non è che stiamo parlando di una squadra fortissima in fase difensiva magari ci scappa il gol del Benevento che quest'anno è stato anche un po' sfortunato eh soprattutto nelle partite perse all'ultimo minuto qualcuna proprio anche sempre per un gol di scatto soprattutto in casa ha perso sempre una zero no con il Torino e con il Bologna eh povero Benevento eh adesso speriamo che però l'Inter non vada a Benevento con l'atteggiamento remissivo allora ancora messaggi Spalletti ha detto bene Inter deve dominare le squadre piccole non farsi dominare dice Entis eh eppure il nostro Puskas secondo me il golletto lo fa dice Cristian e poi Borca Valero è cotto raga dice Benny Boom no addirittura dai Sandro è la troppa fortuna prima o poi la si paga e Giorgio Bernia dice mi saluti ciao Giorgio eh Borca vale la metà di biglia no dai non sono non sono d'accordo Intergazza Michele se vogliamo dirla tutta direi che ha dominato più Bologna ieri che la Roma a suo tempo è vero hai ragione perché ieri Bologna eh le azioni erano le occasioni erano frutto di un gioco non come la Roma che nel primo tempo ebbe le occasioni eh con i tiri da fuori perché i grandi tiratori come oggi Bruno Persio a Kolarov a Nengolan a Perotti tutti tutta gente che noi non abbiamo per questo io mettevo nella griglia la Roma terza davanti all'Inter quarta eh siamo lenti da svenimento dice Riccardo Poggi troppi giocatori fisicamente sovrastati dagli avversari Verdi ci ha messo sotto dice Alessandro Conca Benny dice pensare che sarà lui il titolare di tutta la stagione nel centrocampo dell'Inter mi fa rizzare i capelli Benny mi sono perso però eh chi era il giocatore Verdi sembrava Messi ieri dice Jacopo molto bravo dice Alessandro Conca è vero Verdi ieri ha fatto una grande prestazione però gliela si fa fare anche perché se tu vedi che eh il terzino vede che l'ala si accentra eh lo devi andare a contrastare di più il il centrocampista ieri centrale ah ecco qui era rimasto poi con i messaggi non ho continuato il discorso era d'accordo con un amico che aveva scritto ieri Vesino come Medel no secondo me Medel medio molto meglio di Vesino ieri eh sempre forza Inter dice lo vediamo Brozzo a gennaio ai notizie sì secondo me Brozovic eh può andar via gennaio c'è stata questa possibilità già alla fine di agosto attenzione a Dzeko che segna due a zero stavolta da destra il cross non da sinistra e quindi eh Bruno Perez crossa Dzeko segna quindi qui è veramente il benevento dietro fa acqua e come dicevo la partita è stra finita e va bene eh palleggio lentissimo dice Jack Jack che scrive quindi hai ragione è vero cioè bisogna alzare il ritmo io stavo chiedendo il gol di Bruno eh con Bruno Perez crossa no è proprio autogol non è gol di Dzeko se l'è buttato nella porta per anticipare Dzeko il difensore del Benevento quindi non è assolutamente gol di Dzeko però si continua a vedere questo divario divario che c'è tra alcune squadre e altre eh meno male che c'è il quarto posto per la Champions che Juve Napoli e Roma ormai duemila tredici quattordici Juve Roma e Napoli duemila quattordici quindici eh con Benitez il Napoli perse la Champions all'ultima giornata in casa in quella partita con la Lazio ve la ricorderete con Iguaini che sbaglia il rigore e quindi la Lazio va al posto del Napoli ma con un terzo posto molto basso poi Juve e eh e Roma nel duemila quindici sedici eh l'Inter ha provato un po' a contrastare con l'anno di Mancini ma non c'è riuscita e Juve eh di nuovo Napoli e Roma eh l'anno scorso Juve Roma e Napoli ormai sono quattro cinque anni questo è il quinto anno in cui Juve Roma e Napoli comandano eh e eh non non è una questione di fatturato la Roma l'ha migliorata in questi anni il Napoli ancora sotto all'Inter al Milan quindi è una questione di gioco di crescita di l'idea di gioco no Giorgio no non lo prendiamo di Maria no se ne parla proprio hanno rifiutato un'offerta del Barcellona incredibile quindi non rientra nei discorsi Inter di Maria a gennaio ma io non andrei sul mercato cioè adesso a parlare di mercato siamo a settembre e dobbiamo pensare a questi giocatori l'Inter ripeto abbiamo visto che Andrei va per cinque partite titolare a destra a destra possono giocare Cancelo Brozovic Joao Mario eh Caramò Eder ho detto cinque possibilità quindi non è che ci siamo tolti tutte le curiosità le abbiamo viste tutte eh Raffaele dice non è ancora in forma eh Intergazza dice ricordiamoci l'Italia degli ultimi europei con Sturaro Eder pelleggia Chirini Zazza parolo ecco era una squadra che aveva un'anima ed andava oltre la le palesi carenze tecniche e Maria Chiara dice sì però poi con la Germania ha perso che non ha vinto l'europeo quel campionato dice sempre la verità è vero però ripeto quella Juve lì la prima Juve di Conte era la terza forza del campionato ha vinto il campionato con una squadra operaia senza coppe con grande fame domenica dopo domenica l'Inter di Ventola Callon prima che Ronaldo tornasse eccetera eccetera di Cooper il primo anno di Cooper per così non facciamo il paragono con la Juve non è che aveva lo squadrone per esempio perse delle partite con il Milan 4 a 2 una partita che si era messa male prima 1 a 0 per l'Inter poi 4 a 1 poi 4 a 2 ventola Callon ventola Callon cioè se tu hai quella fame quella cattiveria domenica dopo domenica vai a Bologna la vinci la partita non devi avere lo squadrone o il campionato dice la verità ma può essere una tua caratteristica per vincere le partite avere quella mentalità da provinciale che ti fa andare domenica dopo domenica a vincere a Benevento a Crotone a Bologna a Verona a dove volete voi a Udine a Genova e lì l'Inter non ceda su questo aspetto è una vecchia malattia la diagnosi è già stata fatta dal medico nuovo che è Spalletti e quindi adesso bisogna passare a risolverla come si può risolvere se uno non fa detto Spalletti quello che gli chiedo e Maria Chiara dice non hanno dimostrato di non averla quella fame perfetto si cambia si cambia non ci sono solo i trentenni ci sono anche i ventenni e se perché per esempio secondo me Candreva non è Perisic cioè non è che lui non non si impegna secondo me è proprio in alcune cose è limitato c'è un giocatore che per esempio ecco non ho parlato dell'alternativa al 4-2-3-1 che secondo me potrebbe venire molto comoda soprattutto con con Cancelo il 3-5-2 allora che non è solo una questione di moduli ovviamente però con D'Ambrosio che si accentra con Skriniar e Miranda fa il centro-destra e diventa anche in fase offensiva un terzino di spinta esterno Candreva lì Candreva ha un suo perché è un giocatore che ti può fare tutta la fascia ma è anche Cancelo che lo può fare dall'altra parte Dalbert o Nagatomo Dalbert di più naturalmente perché l'hai pagato 20 milioni deve giocare questo ragazzo è la ricontinuità giusto adesso fare turnovere partite ogni tre giorni al centro hai Vesino e Gagliardini o Borcavalero davanti Perisic Icardi e il terzo lo può fare Eder quindi 3-4-3 o 3-4-1-2 o 3-4-2-1 può essere una grande diciamo variante a 4-2-3-1 e soprattutto ripeto visto che per cinque partite consecutive l'ala destra e il trequartista sono stati il tallone d'Achille io mi aspetto già con il Genoa una diciamo presa di coscienza e anche un po' di coraggio da parte del mister a cambiare qualcosina Luigi dice sì il ruolo perfetto di Candreva è nel 3-5-2 nel 3-4-3 per questo conto lo vuole così tanto anche al Chelsea sempre forse interdice 4-4-2 solido con due punti da 15 con la testa ci vorrebbe sì ma ripeto anche il 4-2-3-1 con Eder seconda punta che però viene più dietro non snaturi Eder perché Eder con Conte giocava Mattia dice il 4-3-3 con Gagliardini mediano sì però ripeto si può fare tutto ma ieri l'Inter non è che ha giocato male per il modulo perché dice Gio Mario trequartista non lo sa fare o no perché se fa il 4-3-3 lo stesso le mezziali devono inserire De Bura ha provato a fare il 4-3-3 e non aveva le mezziali solo Brozovic che tra l'altro è quello più adatto anche a fare il trequartista nel 4-2-3-1 tra i centrocampisti perché se giochi col 4-3-3 devi avere il regista e Borca Valero non è il classico regista e devi avere soprattutto le mezziali che si inseriscono senza palla e non lo era con Dobbia non lo era Banega non lo è Gio Mario lo è forse Brozovic quindi non è una questione di 4-2-3-1 4-3-3-3-5-2 forse nel 3-5-2 magari diciamo non costringi che andreva a fare quello che sta facendo peggio quindi Siluigi dice aveva Salah Stalepi nel 4-2-3-1 però qui a Perisic Perisic è un top player o diciamo il nostro top player non deve accontentarsi di aspettare l'ultima mezz'ora e di fare il compitino o il recupero bello si il recupero no quando capisce che la squadra è in difficoltà va in mezzo alla battaglia a tenta Verdi Verdi è giovane rispetto a Perisic era un ala ieri il Bologna faceva il 4-3-3 con Don Sa Pulgar e Poli davanti Verdi di Francesco e Petkovic si scambiavano di posizione continuamente anche Verdi dice anche Icardi fa il compitino e ragione soprattutto nelle ultime due partite il campione ma non per forza il campione quello che vuole diventare campione deve andare nella difficoltà ad aiutare la squadra dove serve ma non solo sul calcio d'angolo nella nostra aria nel centro della battaglia tu non devi accettare che il Bologna ti mette sotto nei primi minuti non è da accettare e andare a contrastare il Napoli ti può mettere sotto perché è un gioco superiore la Juve a Torino ti può mettere sotto perché tu devi saper soffrire se ti mette sotto il Bologna che ha giocato tre giorni prima con gli stessi c'è qualcosa che non va nel tuo orgoglio nella tua capacità di accettare lo scontro poi Spalletti la riassume dicendo che devi andare addosso devi andare addosso è vero c'è Skriniar avete visto che fame che ha poi ieri magari è sbagliato sul gol ma Skriniar si vede che ha una fame diversa e gli altri devono fare uguale così come D'Ambrosio Eder ripeto fanno con i loro difetti no secondo me sempre forse Inter Riccardi non è il nostro Inzaghi ci serve lui dice Sheva che giocava con Inzaghi no secondo me no non è come Inzaghi Cardi è diverso è vero che è più Daria di Riesi magari più paragonabile a Treseghe però non è che fai il gol sulla linea del fuorigioco di rapina Benny dice più come Crespo ma Crespo magari fosse già come Crespo a livello di sbattimento per la squadra Crespo dava l'anima io mi ricordo un Parma Juventus intanto Gedo sfiora il terzo gol cioè sfiora ha tirato male un'altra occasione intanto il primo tempo sta finendo benamento Roma 0-2 secondo me Crespo dicevo 9 contro 11 andò a segnare al 95esimo un gol stratosferico cioè a me Icardi è piaciuto tantissimo non me la dimenticherò mai quella prestazione con la Juve di Misi 9 l'anno scorso in casa noi ce l'abbiamo nella sigla di obiettivo Inter cross di Cardi gol di Perisic per essere proprio bene augurante lì Cardi andò a fare la battaglia con Chiellini a tutto campo quando non era Chiellini andava da Borucci non era Borucci andava dal mediano e quindi lo deve fare sempre se lui l'ha fatto ed è uscito morto da Crotone perfetto gioca ed era prima punta ma anche Pinamonti ma anche chi sei nella rosa dell'Inter vuoi giocare se uno ha un calo fisico perché è andato tutto tre giorni più tanto tre giorni prima non succederà mai è successo adesso Crotone Bologna succederà di nuovo il 25 di ottobre dopo Napoli Inter c'è Inter Samp e poi non succede nemmeno dopo perché l'Inter va a Verona di lunedì il 30 e Francesco intanto anche dice sui Cardi il giocatore non deve stare ancorato in area di rigore deve uscire dall'aria far dannare i difensori e poi succede la terza volta ad aprile pensate un po' cioè andiamo a finire il 18 di aprile quindi se non contiamo il le coppe come non ci sono quest'anno da contare intanto ci vorrebbe un giocatore di forti caratteri che sappia motivare la squadra sia uno più un leader al centrocampo ma infatti Sabatini questo dubbio si è portato dietro alla fine del mercato di non avere non essere riuscito a prendere il centrocampista che spacca un po' di più le partite si è parlato anche negli ultimi giorni di Sissoko cioè pur di andare su un giocatore di più forte personalità perché Borca Valero ti fa crescere il tasso tecnico davanti alla difesa e ti fa crescere anche gli equilibri però non è un giocatore che spacca a livello di forza e di andare addosso come dice Spalletti manca quel tipo di giocatore nella rosa dell'Inter allora Gio Mario non lo è non lo sta diventando avrà ancora le sue chance Eder è un giocatore che non ce l'ha però secondo me lo può fare Brozovic se migliorasse a livello mentale lo può fare e secondo me adesso se la devono giocare di più loro due Brozovic e soprattutto Eder a esterno destro ripeto si può vedere qualcosa di diverso Maria Chiara dice se fossimo stati l'ingimirianti si poteva portare a caso Milinkovic Savic sì lo so ci sono anche gli altri osservatori gli altri che vanno a fare per esempio Verratti lo sapevano tutti Milinkovic Savic ha vinto il campionato del mondo under 20 con la Serbia sì lì è proprio una zona di campo dove non è facile Lavazzi è stata brava a prendere Milinkovic Savic e l'Inter non ha non ha quel tipo di giocatore bisogna fare adesso di necessità virtù fino a prossima però ripeto c'è per esempio si si può fare molto meglio anche senza quel tipo di giocatore sempre Forza Inter dice avevamo Coutinho trequartista del Brasile tiro da fuori punizioni ecco per esempio Coutinho non aveva il tiro come Joe Mario Coutinho il tiro l'ha iniziato a migliorare al Liverpool nemmeno alle spagnoli all'Inter sembrava proprio che non potesse mai tirare perché era troppo leggero allora grande dribbling grande genialità grande giochi giochi di gambe ma poi quando doveva tirare la castagna non non ce la faceva intanto accendo come si fa nei campi la luce cala un po' la penombra quindi si accendono i fari ammeazza domenica sarà ammeazza dalle quindici tra l'altro potete seguire anche oltre a venerdì sera Obiettivo Inter con i nostri ospiti torna anche Enrico Giangreco sabato e domenica sette gold sabato dalle diciotto fino alle venti tre e quindici con la pausa alle venti e domenica a commentare Inter Genoa dalle venti alle ventitré e trenta quindi potete seguirmi anche lì il canale youtube ripeto sempre di iscrivervi adesso siete state aumentando quelli collegati ecco magari qualcuno si è perso le pangelle le ripeto solo velocissimamente venerdì a che ora dice Giorgio venerdì alle ventuno e trenta fino alle ventitré 90 minuti come una partita quest'anno abbiamo racchiuso i 90 minuti la trasmissione poi alla fine abbiamo sempre sforato un po' però 90 minuti è l'obiettivo perché sono due tempi due grandi temi su cui dibattere con gli ospiti le telefonate dopo la mezz'ora sms whatsapp poi lunedì visto che ci sono più telefonate comunque c'è più voglia di intervenire rispetto al venerdì abbiamo anche i tempi supplementari mezz'ora in più saldana ciao michele pensi che alla luce di queste dichiarazioni fatte da spalletti sacrosante possano rischiare il posto alcuni punti fermi della squadra come gandreva icardi e borca carvagno dice da quando è iniziata questa questa diretta inizia da un ore e un quarto quindi andiamo avanti ancora per una ventina di minuti giuseppe fogliate inutile fare tanti giri di parole la squadra è mediocre no non è mediocre mediocre per per il quarto posto no è inter ergo subito dice penso che l'organico tutto sommato sia buono per il quarto posto e cristian dice questa squadra sarebbe da leccarsi le dita hai ragione cristian io stravedo per kovic però anche kovacic non è il tiro attenzione a farsi a ricordarsi quel tiro con la lazio al volo perché lì l'ha presa bene al volo ma anche lui quando doveva caricare o avere il coraggio non è uno di coraggio cioè non è proprio quello che manca perché giovario è paragonabile al livello di qualità di talento di tattica kovacic ha forse anche un po più di di estro giovario è più metodico però anche kovacic non era a me piace tantissimo però per rispondere alla domanda di prima dice pagheranno già che ne so i carri porca valero e candreva secondo me i carri sicuramente no perché i carri deve giocare non ha grandi alternative eders deve giocare può giocare tre quartiste candreva e borca valero sì può essere più candreva di borca valero borca valero ha giocato adesso che magari erano solo tre giorni tra l'altro col crotone è stato veramente quello che ha dato di più di tutti se vi rivedete crotone inter io ieri ho rivisto anche bologna inter dopo la partita l'ho vista due volte ed è stata una fatica bestiale perché sì erano stanchi dice carvagno è vero però stavamo dicendo si poteva fare un po più di turnover e borca valero ieri è uscito proprio con la lingua di fuori non ce la faceva più adesso ci sono cinque giorni questo è un piccolo vantaggio rispetto al genoa che gioca oggi quindi vediamo borca valero lo vedrà spalletti in allenamento se è al cento per cento per poter giocare dall'inizio altrimenti giocano vesino e gagliardini per quanto riguarda candreva invece secondo me è arrivato il momento di giocare con un altro lì cansello non è pronto può giocare brozovic brozovic a destra eder trequartista tra l'altro noi obiettivo inter l'umedi sera l'avevamo proprio anticipato non brozovic trequartista eder ala come per esempio avevano detto dei colleghi in altre trasmissioni o come può poteva sembrare più logico ma al contrario eder trequartista proprio per quello che aveva fatto vedere spalletti anche in alcune prove per esempio negli ultimi minuti in casa con la spalla e brozovic esterno visto che fatica a trovare la posizione da trequartista quindi queste possono essere le due varianti in vista della prossima partita dice intercazza quanti spettatori si prevedono allo stadio contro la spalla 57.235 con il genoa eh cinquantunomila e sette io mi auguro sessantamila di poter sfondare il muro dei sessantamila per poi vedete godersi il tutto esaurito con il Milan peccato perché se si fosse vinto a Bologna secondo me si poteva arrivare anche a sessantacinque magari l'entusiasmo ancora più forte eh Christian dice io mi ricordo i mormorì con Coutinho è vero è vero era non era diciamo spinto dal pubblico io mi ricordo anche inter tv tante battaglie eh si diceva no abbiamo preso un giocatore a calcetto eh abbiamo preso un giocatore che come un uccellino che non eh si mantiene in piedi cade con il vento eh qualcuno diceva un po' come Pirlo in Serie A non puoi fare il trequartista puoi giocare davanti alla difesa ma Coutinho non è pronto per giocare davanti alla difesa poi si è visto che invece era un grande giocatore eh Lasser per esempio dice che brutta partita ieri sera mamma mia che sconforto ma si dicevo ah il giocatore da calcetto era il mitico Gilberto sempre forza Inter dice è vero se il giocatore da calcetto è Gilberto che poi era anche il vice Roberto Carlos in nazionale vabbè il problema dell'Inter sempre i tifosi e i giornalai dice Carbaglio sì sì no ma noi stiamo parlando tra di noi adesso siamo tra di noi ce lo dobbiamo dire quello che non va eh poi quando uno dice l'Inter ha rubato il pareggio Donadoni siamo stati derubati quello sì sono d'accordo con te sono cose che oggi ho letto anche dei commenti pazzeschi sul fatto che il mercato e adesso aspettiamo gennaio e i problemi sul qui è veramente sviare l'attenzione quando uno non ha argomenti non vuole parlare di calcio con Spalletti si parla molto piacevolmente di calcio e quindi è bello che eh adesso non è tutto l'anno calcio mercato facciamo fare il calcio mercato a Sabatini a Usilio a Baccini agli osservatori lo sanno loro adesso non è il momento di parlare di calcio mercato l'Inter deve fare una prestazione diversa da Bologna non 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 ci giriamo intorno poi Fabrizio dice su Radio Sportiva tutti gli inter amica degli arbitri aiutini si hanno sentito ma se hanno detto così è sicuramente una una brutta battuta perché con Mazzari e con Stramaccioni l'Inter avrebbe avuto diecimila rigori rispetto a quello zero che aveva avuto quell'anno per un anno consecutivo consecutivo con tutti e due un rigore dopo un anno un rigore dopo un anno io ho detto se c'è il VAR e l'Inter non può essere come è stata negli ultimi dieci anni la squadra con meno saldo rigori di tutti anche l'anno del del triplete e guarda caso hanno avuto il dubbio sono dovuti andare a controllare se no se non c'era il VAR con Gio Mario era punizione dal limite ieri l'aveva dato il rigore c'è da dire quindi ieri era già stato dato il rigore Inter Ergosum dice gli uomini ci sono necessitiamo di gioco e punti e facciamo che la trasferta di Bologna rimanga un brutto un brutto episodio Fabrizio dice non i giornalisti ma guarda caso tutti i messaggi vocali erano sospiri di sollievo di Juventini Fiorentini e Milanisti ho capito ho capito quindi sì sì no ma l'Inter aveva già fatto paura in queste prime giornate però io non ci sono cascato ma credo nemmeno i tifosi dell'Inter ci siano cascati in questo discorso dell'Inter da Scudetto quattro partite perché si dice sul Corriere no su tutto sport soprattutto no l'Inter e l'anti Juve l'Inter non è come il Napoli e la Roma perché quando lotta l'Inter poi passo indietro per lo Scudetto no non è passo indietro per lo Scudetto l'Inter non lotta per lo Scudetto non ha una squadra per lo Scudetto poi il calcio è bello perché nel calcio può succedere di tutto ma non ci sono le premesse al momento per avere avere una squadra da Scudetto Fabrizio dice comunque grazie per il tuo lavoro ti seguo sempre volentieri e fui ospite con il mio Inter Club su Inter TV grazie anche grazie grazie a te tra l'altro magari se ci sentiamo noi continuiamo a invitare anche a Inter Fan TV adesso nella nostra web TV lunedì e venerdì sera o giornalisti o addetti ai lavori ma anche eh tifosi esponenti sia dei club sia della curva sia tifosi singoli quindi diciamo uno su tre quando riusciamo a fare diciamo la griglia preferita è sempre un esponente proprio del tipo quindi mi fa piacere se ci venite a trovare adesso siamo nella zona nord di Milano quindi anche con la metropolitana si può arrivare non è lontano dalla metro Entis fino all'ottava giornata le dobbiamo vincere poi con il Napoli anche un pareggio secondo te verosimile dice Walter che abbiamo fatto un richiamo di preparazione no 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 non è anzi forse siccome si è fatta la tournée diciamo che il richiamo eh richiamo quest'anno non ci sarà nemmeno il richiamo a Natale perché c'è la pausa solo dal 6 al 21 di gennaio quindi diciamo che siamo fortunati senza coppe per poter lavorare di più in settimana Spalletti non aveva avuto non aveva avuto la sensazione che la squadra non potesse comandare la partita eh con il Bologna che deve pagare di più più bar che Inter il titolo del Corriere dello Sporti oggi ci intergazza sì anch'io l'ho visto stanotte quando è uscito uno scandalo di titolo uno scandalo perché quello fu già il segnale dopo Roma Inter e adesso si vuole battere si vede giornale che vuole eh essere di più indirizzato a un pubblico romano o meridionale quindi Roma Napoli che lottano per un posto anche superiore all'Inter e allora Lazio stessa e allora si cavalca l'anti milanicità no Inter e Milan il bar non va cioè è un discorso geografico che proprio dice vabbè ma tu allora non hai capito il giornale deve vendere le prostituzioni intellettuali ci siamo forse dai far ridere far ridere dire più bar che Inter è imbarazzante è imbarazzante perché ieri il rigore era clamoroso era nettissimo l'arbitro l'aveva già dato e doveva secondo me anche manda fuori Mirante che è stato insopportabile per molto meno dei giocatori dell'Inter l'applausetto o mi ricordo una volta Vitic un'altra volta Miranda cioè ammunizioni e espulsioni che fioccavano per condobbia vi ricordate condobbia eh no giornata disqualifica perché andarlo all'arbitro a dirgliene due Mirante Mirante quando gliene ha dette ieri all'arbitro 4 8 16 no 2 gliene ha dette carlo di che stiamo parlando io non ho voluto parlare per niente dell'arbitro perché ieri non è l'arbitro è punto e quindi i cardi a Torino giustamente dice sempre forza Inter non ne parliamo eh in casa quando orsato gli dice conto fino a 3 1 2 dai non lo scherziamo ieri Mirante ha detto di tutto e eh di più eh allora ricapitolo le pagelle per chi si è collegato dopo allora ho dato ad Andanovic eh un cinque e mezzo per il discorso di dei rinvii e anche della personalità perché secondo me lui eh deve essere uno dei leader non è che deve fare solo la grande a Crotone io ho dato sette e mezzo grande parata due grandi parate ieri ha fatto una bella parata sembrava Palo invece la sua mano che ha respinto il primo tiro e dopo c'è stato il secondo tiro da fuori aria nella doppia occasione del Bologna però eh mi aspetto di più dal punto di vista della personalità questa squadra proprio ha bisogno di tanti capitani come ha detto Spalletti non di quelli che eh stanno comodi eh quindi ehm sì è vero Inter Ergo Sum mi ha fatto molto strano vedere Palascio andare a a a fare quello che ha sempre fatto con noi cioè a essere nel centro anche delle discussioni del del gioco della grinta del grande giocatore tanto l'hanno criticata gli ultimi anni però eh hai notato che a Crotone dopo le parate spettacolari nessuno si è complimentato con Andanovic dice Walter Novi no non l'avevo notato però lì c'era il calcio d'angolo, magari c'è stato poco tempo l'Inter-Lazio di Coppa Italia siamo rimasti in otto espulso anche Zanetti, è vero con Braschi all'epoca mi ricordo, mi ricordo allora, dicevo Andanovic 5,5 per tutto questo Skriniar, secondo me era stato sufficiente anche Skriniar però gli ho dato 5,5 per il discorso del gol secondo me sbaglia il movimento poteva fare qualcosa in più, magari non ci sarebbe riuscito lo stesso, però proprio concettualmente Miranda, lui come Andanovic c'è, devono essere leader, Miranda deve essere più leader, più cattivo, meno tranquillità, meno sicurezza e più tensione, più paura più concentrazione D'Ambrosio e Eter l'ho detto, gli unici 6, le uniche sufficienze perché secondo me danno sempre il loro massimo anche escono fuori anche alla distanza Nagatomo 5, 5 Borcavalero 5 Vesino, 5 Perisic poi ho dato invece i peggiori Candreva 4 e Gio Mario 3 e infine Icardi 5,5 perché mezzo punto in più per il discorso del calcio di rigore che comunque devi sempre battere I Entis dicono gli opinionisti sportivi fino adesso che l'Inter ha vinto più o meno le partite con fortuna speriamo di vincere contro il Genoa dice Play FIFA io non sono d'accordo il discorso della fortuna non fortuna, la fortuna te la devi andare a guadagnare a cercare e anche a sostenere perché ieri per esempio l'Inter non ha avuto fortuna perché il Bologna poi si sapeva che dopo che fa quel primo tempo cala e tu la fortuna non l'hai aiutata perché se l'Inter avesse giocato bene l'ultimo quarto d'ora con lucidità e vinceva 2-1 non sarebbe stata fortuna perché è normale che il Bologna cala il Bologna ha dei limiti in difesa ma tu non hai portato a casa i tre punti quindi la fortuna non l'hai aiutata l'Inter con la Roma quando è sopravvissuta i pali eccetera eccetera dopo la fortuna se l'è guadagnata se l'è strameritata poteva finire 4-1 l'ultimo contropiede con Canzero libero e Perisic o chi era che non lo serve quindi la fortuna bisogna guadagnarsela con il Crotone sono d'accordo l'Inter anche ha fatto un gran che però almeno lì Skriniar in quel batti e ribatti non a caso proprio è capitato a lui come per esempio lo stesso Miranda quando spizza l'unico calcio d'angolo battuto decentemente da Candreva chi c'erano l'incivolata che se la palla va più in orizzontale approfitta della spizzata di Miranda D'Ambrosio al centro è Eder sul secondo palo sono sempre loro che hanno l'atteggiamento giusto non vedi mai i soliti noti ad andare ad attaccare lo spazio con cattiveria oppure quei tiri non so Perisic che tira alto così col movimento del corpo proprio senza quella cattiveria agonistica puoi anche sbagliare il tiro ma non questi t all'abbrozzo dici pure che calcia sempre ricomincia la Roma dice Carbaglio di salute la Roma c'è niente da vedere 2 a 0 finita la partita è già da un pezzo e comunque anche io sono quasi in conclusione come dicevo sempre 90 minuti la nostra partita interagire il mercoledì pomeriggio dalle 5 e mezza alle 7 il lunedì sera e il venerdì sera dalle 9 e mezza con gli ospiti lunedì e il venerdì sera obiettivo inter inter ergo sum dice giustamente la fortuna e la scusa di chi ha perso specie in Italia va sempre ricordato che la fortuna aiuta gli augaci a noi ieri sera non ci siamo aiutati perfetta l'analisi io tra l'altro dico anche che con il VAR non c'è più niente da discutere su quelle cose che non sono il calcio chi se ne frega di parlare se il rigore c'è o non c'è con il VAR si vede l'arbitro lo vede l'episodio è chiaro bypassiamo la discussione sulla moviola perché c'è il VAR e riusciamo a parlare di più di calcio come si fa con Spalletti la scappata per il difensore centrale sbagliata in questo caso di screening l'essere davanti alla difesa più arcigni più equilibrati per esempio Vesino secondo me a differenza di quello che faceva Medel non ha dato maggiore equilibrio dietro perché Verdi si è buttato lì in quello spazio dove lui lasciava un po' di campo e quindi lì va migliorato il trequartista e l'ala destra l'ho detto per tutta la puntata ma anche l'ala sinistra le ali devono avere più il coraggio di andare dove c'è la battaglia il trequartista di aiutare di più la punta di venire di più dietro aiutare la squadra quando la squadra non si alza i terzini gli puoi dire meno perché ripetelo se hai meno qualità e io da Cancelo e d'Albert mi aspetto un salto di qualità da quel punto di vista della qualità però l'anno scorso l'Inter due anni fa è arrivata quarta l'anno scorso l'Inter con Pioli dall'inizio alla fine sarebbe arrivata in lotta con Atalanta e Lazio per il quarto posto magari arrivava sesta ma sarebbe stata sicuramente in lotta con Atalanta e Lazio per il quarto posto che non serviva ad andare in Champions perché il terzo posto è stato 86 l'Inter non arrivava 86 ma dieci punti in più senza il finale senza l'inizio c'è con un Pioli dall'inizio alla fine Cristian dice Michele Dillo in conferenza i tifosi vogliono vedere Caramò e cosa ne pensi di Dalbert dice poi Marco ma di Dalbert io credo ieri sia stata solo una questione di turnover col Genoa lo vedremo per quanto riguarda invece Caramò secondo me Spalletti lo sta vedendo Cristian in allenamento e lo ha valutato ancora Cerbo poi c'è da dire che ieri si è scaldato quindi non è che una piccola possibilità di poter rientrare ci sarebbe stata però Brozovi ceder oggi sono i primi cambi rispetto a Caramò certo se Brozovi ceder per un po' di turnover giocano titolari anche Caramò ha più possibilità di entrare a partite in corso secondo me lui aspettava magari una partita diversa per fare entrare Caramò che ha grande corsa grande dribbling quindi magari 2-0 a Bologna fuori casa mancano 15 minuti entra Caramò stai soffrendo magari fai più fatica quando c'è Eder e Brozovi a fare entrare prima Eder e Brozovi che non Caramò quando alla Juve viene dato un rigore contro Lavar e Buffon dice che Lavar snatura il calcio di Centis sì infatti io avevo fatto un video il primo settembre in cui parlavo proprio anzi no alla fine di Roma Inter quindi se andate lo potete recuperare sul buffone imbarazzante e quindi quella dichiarazione il calcio da laboratorio ho detto vabbè se per te questo non è più il tuo calcio ti puoi ritirare un anno prima farsi un'opinione personale ascoltare meno le trasmissioni dice Intergazza no sì noi andiamo diciamo siamo stimolati siamo nati per questo e andiamo avanti anche per questo proprio perché vogliamo dare un'alternativa al tifoso dell'Inter al dibattito in cui o si parla solo della Moviola o si parla solo di società di mercato di queste cose vuote ieri sera di nuovo Moratti prende il 30% di Torire queste stupidaggini basta di stupidaggini non se ne può più parliamo di calcio lo stesso Moratti oggi è stato intervistato ha detto io ce l'avevo il 30% che faccio lo do e poi me lo riprendo e poi me lo riprendo cioè se non si vuole capire non si capisce ma fa niente peggio per chi non vuole capire allora è terminato lo spazio purtroppo trasmissioni come la vostra Michele Scarseggio intergazza lo so enti si dice ufficiale Facundo Coliglio attenzione mi piace dare l'ufficialità aspetta che vado a prendere vado a prendere eccoci qua intanto 3 a 0 della Roma 3 a 0 della Roma mi piace concludere con con una notizia perché vediamo se la riusciamo a dare poi questa notizia così proprio sul finale intanto il 3 a 0 della Roma che ha segnato di nuovo Dzeko allora il primo gol Dzeko il secondo autogol sul pressing di Dzeko il terzo è bello questo è un mancino nell'angolino opposto questo è un bel gol di Dzeko che si è scatenato allora vediamo un po' no qua non c'è ufficialità vediamo se riesco a recuperarla così chiudiamo con l'idea ufficiale da agosto dice Cristian Chia no no Cristian non era ufficiale ad agosto non era ufficiale sì quindi è arrivata l'ufficialità eccolo qua dal sito proprio ufficiale quindi un attimo che si apre così lo leggiamo insieme il comunicato eccolo qua è proprio di due minuti tre quattro cinque minuti fa lo vediamo un po' il giocatore classe 2000 giocherà nella primavera arrivato il certificato internazionale di trasferimento ricordiamo che farà diciotto anni ed era venuto proprio alla fine di agosto per prendere anche il passaporto da comunitario FC internazionale comunica l'avvenuta ricezione del certificato internazionale di trasferimento conseguente all'acquisto a titolo definitivo del giocatore classe 2000 Facundo Coliglio l'attaccante argentino ha firmato un contratto triennale con i nero azzurri ed è già aggregato alla primavera allenata da Stefano vecchi ricordo che è obbligatorio tra l'altro firmare un contratto non è quinquennale come per i grandi ma per i minorenni non si può firmare un contratto superiore al triennale se ne è parlato molto anche sul caso nel caso di Donnarumma che firma un contratto che gli scadeva a 19 anni proprio perché c'era questo questo problema quindi primavera pazzesca dice Intergazza sì è vero perché con Pinamonti che è un 99 quindi può giocare con la primavera così come va Neusden che però sono aggregati alla prima squadra con Odgard e Zaniolo che sono 99 più Odgard che una prima punta e infatti ecco Inter Ergosumo fa il il riassunto e Colidio che è un 2000 2000 addirittura può giocare con la Berretti e quindi poveri gli avversari dell'Inter Football Manager non sbaglia mai dice Reignante sì sì no non ho letto adesso quello che avevi scritto perché Colidio Wonder Kids ah ok sul commento è un grande prospetto per la nostra squadra Wonder Kids quindi ragazzo meraviglioso sempre Forza Inter dice l'indramma della nostra primavera che parte Balotelli venduto al City nessun altro giorno negli ultimi vent'anni risultato essere un campione a parte Bonucci forse sì sì però io voglio ricordare che ricordatevi di Merola dice Cristian Chieppa per me se li metterà tutti in tasca si è un'ottima seconda punta mi ricorda un piccolo insigne però quello che volevo dire è che la primavera dell'Inter è veramente veramente forte con Hoggard che ha dimostrato anche nel derby eccolo qua la notizia proprio era delle 19 quindi abbiamo voluto concludere con la notizia di Colidio delle 19 quindi proprio alla fine dell'appuntamento con Interagire una notizia che ci aspettavamo però anche ieri quando Ausilio è stato chiesto sia di Pellegri e sia Bastoni dice meglio di Caldara Laser dice Colidio è una grande promessa ma allora sempre forza Inter Caldara l'aveva detto lui stesso che Bastoni è più forte di me e quindi fidiamoci di Caldara e speriamo l'Inter potrebbe avere tra 5-6 anni Van Hoisden Bastoni come coppia centrale e siccome Skriniar ha 22 anni diciamo Skriniar con l'erede di Miranda che ci auguriamo possa essere uno tra Van Hoisden che già c'è ed è un 99 e lo stesso Bastoni è un 99 arriverà solo a 20 anni nel 2019 ancora due anni all'Atalanta per quanto riguarda Pellegri l'Inter è vero come ha detto ieri Auxilio ha adesso Colidio ufficiale da pochi minuti Odgaard che ha fatto un grandissimo derby ma a grandissime qualità e Pinamonti quindi a tre prime punte non è detto che con Pellegri a gennaio si riapra il discorso e lì è tutto preziosi che sta vendendo il Genoa vuole comunque intascare lui la nuova proprietà naturalmente vuole tutto il pacchetto quindi vediamo che tipo di accordo si troverà intanto il ragazzo gioca titolare forse gioca anche stasera titolare quindi se continua a segnare preziosi chiederà 25-30-35 milioni non lo so e fino a un certo punto si può andare a rincorrere questi tipi di prezzi Nukuri disse che il fratello era più forte tra l'altro Nukuri era in panchina nel termine il fratello e aspettiamo anche il ritorno di Hassan e Nukuri forza spalla stasera dice Entis Michele mi dispiace la media punti dell'Inter in queste cinque partite specie gol subiti Marco Basile no gol subiti due gol subiti in cinque partite è perfetto significa che tu alla fine del campionato su 38 giornate ne prendi meno di 19 cioè meno della metà delle giornate magari ma pure se prendessimo 30 gol io ci metto la firma 30 gol vuol dire che arrivi quarto l'anno scorso l'Inter ha presi 49 prossimo attacco Colidio Odegaard è bello però che anche i tifosi si iniziano a affezionare o vanno a giudicare la crescita dei giovani perché questo è il futuro in Francia l'hanno già fatto in Italia per 3-4 anni ci siamo aggrappati al campione di 36 anni sul finale della carriera poi intanto qualcuno dice no non sono d'accordo col 4 a Candreva mister Alessandro perché ha fatto il cross dopo due minuti sì dopo 50 secondi l'ho detto però dice anche il cross da cui è scaturito il rigor di Ener era un altro cross sbagliato un'altra palla lunga e ha sbagliato di tutto dai calci d'angolo cross tempi di giocata sempre gli stessi errori sempre gli stessi errori cioè vabbè poi i voti sono opinabili rispetto chi la pensa diversamente ci mancherebbe uno può anche valutare la prestazione da 5 da 6 da 7 sono tutti io do il mio voto e lo giustifico poi si può essere più o meno d'accordo ed è bello anche per questo perché così si dibatte e si discute Caramò anche che ha fatto 5 gol l'anno scorso giustamente dice Cristian Walter quest'anno la rosa contata l'hanno perfetto per lanciare i nuovi giovani sì io mi auguro proprio di poter vincere queste partite con le piccole con più facilità proprio per poter magari un certo punto del campionato tu non puoi più arrivare primo non puoi più arrivare quinto e riuscire a far crescere più velocemente in questa stagione Banoisden Pinamonti Caramò magari speriamo anche ad aggregare Odegaard alla prima squadra nel finale di stagione ma adesso è presto per dirlo adesso ci dobbiamo concentrare su Inter Genoa perché battere il Genoa prima di andare a Benevento andare alla sosta con 19 punti è un obiettivo possibile 19 punti prima della sosta avremmo firmato tutti 70.000 a San Sino domenica pomeriggio il Genoa è una squadra aggressiva è una squadra che lotta e quindi attenzione al Genoa non è da sottovalutare non è una squadra molle però questi campanelli di allarme a Crotone a Bologna per come abbiamo giocato ci è andata bene 4 punti adesso bisogna far tesoro di questo e no non ci sono Claudio dati sugli spettatori del Genoa però sui 30.000 abbonati quindi riusciamo a arrivare a 30.000 paganti si arriva a superare i 60.000 ce la si può fare tra l'altro domenica pomeriggio tanti ragazzi che vanno a scuola il giorno dopo famiglie che vengono da fuori Milano hanno tutto il tempo per tornare a casa dalle 5 che finisce la partita fino alla sera io mi auguro davvero un pubblico delle grandi occasioni per far capire che il pubblico anche ha capito così come la squadra deve capire anche il pubblico ha capito che quest'anno bisogna strappare il ritorno in Champions League dopo 6 anni Inter is coming step by step dopo 6 anni al 110mo anno di compleanno che sarà per l'Inter a marzo l'Inter deve tornare in Champions League col Milan e con la Lazio sarà una lotta dobbiamo tutte le componenti essere convinti che l'Inter ce la può fare e Spalletti farà il suo vedete che già ci saranno le prime scelte e anche bocciature quanto è il caso giochiamoci questa partita e tocchiamo ferro dice Inter Gaza l'Aser 73 Icardi si è pure incazzato in azione di gioco non riusciva a mettere una palla decente ma io preferisco che qualcuno si arrabbi in campo perché anche quando tu non riesci a fare una cosa però bisogna arrabbiarsi e non adagiarsi a volte stavamo veramente nell'ultimo le ultime due azioni l'Inter ha sbagliato anche le ultime due azioni al 49esimo del secondo tempo per due volte l'Inter ha avuto la possibilità di fare l'ultima azione una volta ha passato la palla all'avversario e l'altra volta ha sbagliato la giocata tornando indietro sempre lenti e indietro lenti e indietro con poca voglia poca garra proprio poca voglia di andare ad attaccare l'avversario questo l'ho detto tante volte la tigna riassume tutto Claudio dice una squadra in costruzione va bene così la tigna la tigna la tigna bisogna andare a trovarle chi non ce l'ha non gioca c'è sempre qualcun altro che può giocare non è vero che sono che sono pochi grazie a tutti per aver seguito questo appuntamento con Interagire iscrivetevi al canale YouTube buona sera di campionato io ti info Fiorentina e Napoli stasera l'ho spiegato anche il perché ovviamente Spal Forza Spal e Fiorentina dice Inter Gaza sì anche Napoli vi dico la verità grazie a Claudio per i complimenti grazie a Giorgio grazie sempre Forza Inter ha sempre Forza Inter è bello perché per dire il tuo nome di YouTube devi dire sempre Forza Inter ci vediamo venerdì sera solita trasmissione con gli ospiti quindi maggior dibattito potete anche chiamare in diretta ci vediamo venerdì sera dalle 21.30 con Obiettivo Inter grazie a tutti e a presto è sempre Forza Inter ciao anche a Laser 73 ciao ciao